Salve a tutti ragazzi, qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle per parlare un attimino, come avete visto dal titolo, di Gohan Beast e Orange Piccolo ovviamente ma Orange Piccolo a noi non ce ne frega, ce ne frega solamente di Gohan Beast Detto questo, piccolo annuncio, Albano lì ce l'ha, 26, il 26.12, ok, alle ore 11 ci sarà la live di Dokkan Battle per il reveal delle speciali, il kit, tutte le cose di Gohan Beast e di Orange Piccolo sarò in live sul canale Twitch per reagire in live con voi, quindi vi ricordo, 26 mattina alle 11 in live sul canale Twitch, link in descrizione, nel commento pinnata, andiamo a reagire insieme poi ovviamente arriverà il video più tardi sul canale Detto questo, passiamo un attimino su Twitter, su Twitter di Dokkan Official perché il titolo di oggi è Quando esce Gohan Beast Il 26 c'è il reveal, e ok, qua abbiamo la live come potete vedere ok, il 26 dicembre ore 11 facciamo la live, benissimo L'altra cosa invece sono i video che stanno postando, ok? Che dicono esattamente quando uscirà Gohan Beast è carinissima la cosa, perché c'è Pan che parla e dice le sue cavolate un attimo solo che metto giusto questo è il primo video che è uscito ieri e andiamo a vedere, c'è giusto una cosa da prendere da questo video tutto carino, tutte queste cose, vabbè, nel senso fa vedere il gioco, interessante che fa vedere Gogetta Blue e Broly, molto interessante potrebbero essere Liezza, attenzione ok, calma keyword è B ed era ieri ieri era il 23 bene, che cos'è uscito invece oggi? è uscito un nuovo video con Pan che parla andiamo a vedere un attimino dice che ci sono gli story event, le cose quelle se il max super hero si, ok, la campagna la keyword, che cosa sarà oggi? la z? la s? no, ovvio è la e domani ci sarà una nuova keyword quello di oggi è la e che cos'è in generale la parola? beh, l'abbiamo capito tutti un attimino è Gohan Beast senza Gohan quindi partiamo dal 23 ok, il 23 è la B sabato oggi è la E domani 25 Natale è la A il 26 è la S più Revial ovviamente il 27 è la T il 28 che giorno è? il giorno che escono i banner yeah questa è la data ragazzi volete sapere quando escono i banner? il 28 dopo che hanno spellato Beast con questi video il 28 ci sarà finalmente il banner di Gohan Beast attivo su Dokkan Global e Dokkan Jap lo so effettivamente questo è uno dei video più stupidi di sempre però visto che durante le live in questi giorni ma anche nei commenti ho visto quando esce Gohan Beast? quando esce Gohan Beast? quando esce Gohan Beast? questo è il video per rispondere alla cosa ok? lo sta facendo anche Dokkan JP con questi post strano che non abbia fatto nulla neanche Dokkan però vabbè, amen comunque sì devono finire di spellare Beast ok? con questi video ne fanno uno al giorno quindi quando esce se il 27 finisce la parola il 28 vuol dire che esce Gohan Beast insieme ad Orange Piccolo quindi ragazzi cavolata a parte basta con sto meme effettivamente ora sapete quando esce sapete della live ricordo ancora il video finisce qua effettivamente ve lo dico non è che c'è altro da dire ok? semplicemente queste sono le date il video del 26 che fanno il reveal è tutto alle 11 del mattino ci siamo in live sul canale Twitch mentre darò un'occhiata andiamo a vedere in live poi il video uscirà poco dopo su YouTube detto questo ragazzi per questo mini video è tutto è un video breve ma questo Natale inizia dal 26 per me ok? non c'è molto da fare su Dokkan I know ed è un po' una rottura quindi stiamo aspettando tutti il 26 e poi il 28 queste sono le due date importanti ci sarà un po' di content il 26 ma fino al 28 forse il 27 è un data download potrebbe esserci anche attenzione vedremo però comunque a prescindere fino al 28 non c'è roba su Dokkan ok? usciranno le redzone nuove usciranno oltre alle redzone dovrebbe uscire anche vabbè sì roba nuova in generale Story Event potrebbe uscire finalmente l'LR di quel Gon AGL forse o comunque un tour almeno per favore fateli qualcosa perché ovviamente qua stiamo aspettando da un casino però fino fino al 28 ragazzi c'è da aspettare c'è da aspettare detto questo ragazzi se domani non c'è nessun video non lo so adesso effettivamente io vi dico già buon Natale per oggi ok? non so se domani ci sarà un video ripeto ancora una volta il 26 live la mattina alle 11 sul canale Twitch il video arriverà più tardi sul canale YouTube detto questo è stato un piacere grazie mille per aver visto il video lasciate un bel like commentate se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti